Musica Benvenute! Allora, oggi sfogliamo insieme l'album numero 4 del Livro She che è valido fino al 18 aprile del 2018 In questo album intanto ci sono tantissime novità e promozioni però vedrete subito che è il momento di primavera quindi idratazione ma in leggerezza e la nuova linea della Hydra Vegetal ci viene in aiuto poi abbiamo la nuova Spugna Cognac che finalmente era ora che avessimo anche noi offerte, promozioni, un album da sfogliare insomma e direi di farlo subito Allora, eccoci e direi che possiamo iniziare album numero 4 come abbiamo detto e questa è la novità perché la linea Hydra Vegetal si è rifatta il look con prodotti ancora migliori Allora, tutta la linea, eccola qua la vediamo in queste due pagine nuova linea, eccola che è già detergente, il latte di detergente idratante il tonico ed è la crema, ricca idratazione non stop tutto quanto per un'idratazione della pelle comunque sia in modo leggero quindi che non va ad appesantirla ed è perfetta per la primavera e per l'estate poi c'è la novità che è, eccola qua per una detergenza ancora più profonda la Spugna Cognac perché è completamente vegetale intanto prezzo di lancio 6,95 come si usa? si inumidisce con l'acqua tiepida si strippa bene si deterge il viso con un detergente specifico e si sciacqua basta una volta sciacquata si appende la spugna e si lascia asciugare fino a nuovo utilizzo è molto comoda e poi fa una leggera azione sfogliante e rimuove anche i residui di trucco ovviamente c'è il set eccolo qui che a 14,95 comprende il gel detergente ultra freschezza la Spugna Cognac e il gel crema idratazione non stop quindi davvero una bella promozione se si preferisce invece la crema più ricca si ha sempre il detergente la Spugna ma la crema ricca idratazione non stop quindi il gel detergente per la pelle mista grassa la crema ricca per la pelle secca il prezzo è uguale altro set quello della Stimbo Vegetale che comprende a 16,95 il gel detergente purificante la Spugna e il gel crema zero difetti oppure sempre al stesso prezzo il detergente la Spugna e il gel crema opacizzante Sensitive Vegetale è il set detergente quindi la crema detergente delicata la Spugna e la crema idratante lenitiva a 17,95 oppure il detergente la Spugna e la crema idratante anti rossori è il momento di prenderci cura delle mani e quindi abbiamo intanto iniziato a guardare il colore degli smalti eccola qua la promozione per la cuore delle mani con il set manicure con 11,95 la base SS rinforzante lo smalto effetto gel e potete scegliere tranquillamente tra tutti i colori disponibili e la crema e sublimatrice mani lunghi 2,1 poi il momento di edizione limitata primaverile col make up hashtag pink mantra quindi tutto nei toni del rosa il primo è la polvere illuminante eccola qui che è perfetta perché è come un blush ma ha un giro illuminante perfetta per la primavera i colori primaverili sia dei rossetti che degli smalti i rossetti a 9,95 e gli smalti a 3,95 e finiamo con la promozione delle matite jumbo 2 a 12,95 sono perfette sia ad applicare come ombretto o come base in cui sono davvero molto comode allora i toni sono tutti questi disponibili questi più questi quindi davvero tutti ed è il primo col codice nero e il secondo col codice rosso e questo era tutto l'album allora abbiamo sfogliato tutto l'album vi ricordo come sempre che qui sotto nell'info box c'è il link per contattarmi per le informazioni e per gli ordini c'è sempre anche il link per scaricare il catalogo in formato pdf così potete tranquillamente scaricarlo sui vostri dispositivi multimediali e non mi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente perfumati con il magico naturale mondo vivro e non mi resta e non mi resta un po' di più e non mi resta un po' di più Grazie a tutti.